Euro Regioni News Framework, Clever Dance by Axis Project Si intitola Framework, la nuova opera della Clever Dance, fondata e diretta dal pluripregnato coreografo anglo-finlandese Christian Lever, che andrà in scena in prima assoluta mondiale al Teatro Palamostre di Udine, sabato 23 novembre. Si tratta di una grande coproduzione internazionale dell'associazione culturale Axis Project di Udine, con Federica Comello, presentata con l'assessore alla cultura di Udine, Fabrizio Cigolot. Siamo qui per fare un nuovo spettacolo di danza, che si chiama Framework, presentato a Udine grazie all'associazione Axis Danza. Siamo ospiti di Axis Danza, che sta coproducendo lo spettacolo. Resteremo qui per sei settimane circa. Udine è una base importante per la creazione. Dopo Udine andremo a Salisburgo, perché lo spettacolo, oltre ad Axis Danza di Udine, è coprodotto dalla fondazione Mozarteum. Quindi dopo tre giorni di spettacolo qui, andremo a presentarlo anche a Salisburgo. Questa idea è nata quando ho conosciuto Christian in occasione del concorso Città di Udine, che organizzo da sette anni. Parlando un po', ho creduto nel suo progetto, anche perché appunto ci aveva dei validissimi partner. E così è iniziato tutto il lavoro, il lavoro di programmazione di questa intensa cosa, che appunto, come ha spiegato, sono cinque settimane che sono qua tutti ballerini, musicisti, un po' tutti. Insomma, il 23 novembre al Teatro per la Mostra andrà in scena alle ore 20 e 30 il lavoro di Christian Leller, che si chiama Framework. Io faccio i complimenti a Axis Danza per questa nuova importante iniziativa di livello europeo. Questo sta a significare quanto è cresciuta questa realtà, che è una realtà formativa, però anche una realtà divulgativa di questo splendido mondo della danza contemporanea, e che afferma la Città di Udine come uno dei luoghi di riferimento in questa grande area centro-europea, con sempre dei prodotti di grande richiamo, oltre che di altissima qualità. Tanta parte il richiamo va di pari passo con la qualità. Quindi cerchiamo di sostenere come amministrazione questa iniziativa, ma anche tutte le altre che vengono svolte, perché questa è una fucina continua di progetti, non si fermano mai, dando disponibilità delle nostre strutture, per quanto possiamo, e anche cercando di sostenere attraverso la divulgazione queste iniziative. Io sono convinto che anche la Città di Udine, come già in passato, risponderà con grande attenzione e con grande partecipazione a questa nostra nuova importante iniziativa. Un'iniziativa assolutamente originale, peraltro, per quanto mi ha dato di capire, è che appunto la nostra città non è che ospita tutti i giorni, è qualcosa di veramente straordinario che viene qui prodotto. Quindi grazie anche a tutti i vostri partner che sono qui presenti, per l'attenzione che hanno voluto riservare. Io mi auspico che l'analoga attenzione venga riservata anche alle nostre forze quando queste si propongono nei palcoscenici di tutta Europa. Quindi ci sia questo scambio che si fertilizza e che procede sempre con maggiore convinzione, ma sempre con maggiori risultati. Perché non posso non ricordare le grandi qualità anche dell'espressione artistica locale, che meritano di essere portate nei palcoscenici dell'Europa. Assolutamente, tutto poi per creare il nostro obiettivo che è Udine Città della Danza. Udine Città, ah beh, questo è un obiettivo che vorrei coltivare. Ecco, abbiamo effettivamente delle espressioni nel campo dello spettacolo dal vivo molto qualificate. Ecco, il mio sogno sarebbe riuscire a creare un momento permanente nella nostra città di richiamo durante la stagione estiva, durante la stagione invernale, e vediamo di ragionarci un po' sopra, per effettivamente affermare nel campo della danza la città di Udine. Credo che a livello regionale non ci sia in questo momento. Ecco, Udine avrebbe tutte le caratteristiche, come dimensione della città, come qualità degli operatori, come disponibilità delle strutture, proprio per affermarsi a livello regionale e ben oltre. Ecco, questo è un impegno che io vorrei coltivare sempre anche assieme a voi, a tutti gli operatori, ovviamente, di questa splendida espressione artistica. Grazie. Grazie, grazie. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.